Se nel convocare un consiglio comunale straordinario l'intento di Brucchi era quello di scuotere il generale immobilismo della crisi politica in città, c'è riuscito. Se all'interno della sua ex maggioranza oggi si dovrà redigere un documento programmatico per il futuro che richiederebbe addirittura tanto di quel tempo da dover rimettere a nuova data il consiglio straordinario, vuol dire che qualora esistessero le condizioni sarà almeno valutata la possibilità di non interrompere anzitempo il mandato di Maurizio Brucchi che è quanto il primo cittadino chiede da sempre. Bene ha fatto quindi Brucchi ad accettare tale richiesta trascurando le volontà dei pochi che avrebbero gradito il contrario. Questi ultimi non sono esenti da loro responsabilità, sia chiaro. Adesso vediamo cosa accadrà, perché è certo che a Roma la situazione teramana è assolutamente monitorata. Non ci stupiremmo se dal cilindro di chi che sia uscisse addirittura una soluzione che proveranno pure a propagandarla come quella che finalmente li avrà messi d'accordo. Lo abbiamo detto e lo ribadiamo, Teramo ha già scritto una delle pagine peggiori della politica, nella quale più del bene della città contano i personalismi, le ambizioni per restare in questo mondo che ti dà da vivere bene senza soffrire chissà cosa o quanto e magari anche qualche piccolo grande spostamento da una parte o dall'altra che c'è già stato e che non è detto non registri di nuovi. Il tutto mentre il silenzio di chi avrebbe dovuto o dovrebbe dire resta tale non si tratta del silenzio degli innocenti.